ok ragazzi per sbaglio o cliccate il video e si è elevato comunque devo stare qua perchè non so perchè si è tolto si toglie sempre questo affare non so perchè ok io non tolgo più niente mi sono segnato da sopra ai trucchi queste cose se no vanno a finire all'immondizia ragazzi scusate un attimo c'è stato una cosa non so perchè si toglie questo affare ma comunque vediamo ora ah finalmente si è acceso allora fresh e che cambia colore poi c'è strobe che bianco poi c'è fad che rosso vabbè che bello bellissimo qua posso bastare la luce se non sbaglio poi c'è r di così 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 che ragazzi lo lascio così troppo bello comunque spegniamolo vediamo se lo accendiamo perfetto poi c'è questo di qua che si illumina pure poi c'è una chiavetta per spegnerlo quindi comunque raga contiamo quanti soldi ho 15 euro 2 euro 1 euro sono sono ricco comunque questi sono tutti aspicci questi e questi ho 10 euro e 5 euro quindi poi c'è un po' poi c'è un po' poi c'è un po' e poi c'è un po' questo abbiamo perché non ti apri ok mettiamo qua chiudiamo e let's go qua ci regalo di mia sorella allora questo è il regalo di mia cugina Ginola di stasera un pacco un altro 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 pacco e c'è un gatto vabbè ciao sogniamo spento la porta mi sono dimenticata qua c'è un'altra gente vabbè ciao chiudi chiudi si ciò che l'hai bruciato sta facendo i spingi si vede e slinge non spingi come? si spinge vabbè vabbè ecco qua tutte le case se le vedete non lo so ah ecco qua perché si vede bianco vabbè vabbè lasciamo parlare ciao se vi è piaciuto questo video lasciate like e iscrivetevi al canale ciao comunque si vede bianco perché c'è mare di sole ciao ciao ciao